L'Iran, ma pure Rafa. Gaza, ma pure il Libano. Netanyahu ha messo tutti nel mirino e nessuno riesce a distoglierlo dall'allargare e aggravare il conflitto. La logica delirante del tanto peggio, tanto meglio, accomuna i capi degli schieramenti. Il premier israeliano vuole colpire l'Iran per reagire al bombardamento, vistoso ma inefficace, di sabato scorso. Ritorsione a sua volta per il raid israeliano sul consolato iraniano di Damasco. A loro volta gli Ayatollah dicono che stavolta la risposta sarà devastante, che useranno le armi più micidiali del loro arsenale. Armi, sempre e soltanto armi. Zahal concentra uomini e mezzi a ridosso della striscia. Tutto è pronto per l'attacco su Rafa, unica città non ancora occupata, dove si sono rifugiate più di un milione di persone. Quante ne morirebbero se gli israeliani attaccassero? Ma la banda Netanyahu interessa solo stanare quelli di Hamas, che da parte loro non fanno una piega. Sono disposti a sacrificare ancora migliaia e migliaia di civili alla causa. Intanto il Qatar medita di tirarsi indietro dalla mediazione sugli ostaggi e gira voce che gli americani abbiano dato il via libera al raid su Rafa in cambio di una risposta limitata all'Iran. Grandi macchinazioni sulla pelle della gente, umiliata e offesa quotidianamente. Non solo a Gaza, un libanese è stato ucciso stamane nel sud del Libano in seguito ai raid israeliani su postazioni di Hezbollah. In questi sei mesi di guerra, sul versante nord, più di 60 i civili uccisi.